segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te nessuno vuole qui non era la libertà non è messa in discussione mi pare neanche da dalle dalle proteste dei novax ma mi sembra incredibile parlando stiamo parlando di un perseguitato da un regime morto a causa di quel regime con i portuali di trieste che dopo tre giorni di blocco di un barco portuale subirono a suo tempo l'utilizzo degli idranti cioè stiamo veramente mettendo sullo stesso piano cose che sono imparagonabili davano fastidio alla pandemia mondiale è un po diverso non davano e al traffico merci dell'italia non davano fastidio alla sinistra chiariamolo davano fastidio a un ministro che prima o poi dovrà rispondere delle proprie malefatte ma ho capito però non si può paragonare le proteste dei novax con l'uccisione del dissidente c'è anche solo evocarlo in una giornata come questa è una provocazione sono piani diversi ma comunque quantitativamente diverso ma qualitativamente la stesso principio ma come può essere david vorrei dire qualcosa sull'ucraina rispetto alle dichiarazioni si però non ancora io